Ho incontrato i nove prefetti dell'isola, li ho ringraziati per quello che hanno fatto e che fanno e li ho esortati ad intensificare i controlli delle forze dell'ordine sull'isola per i prossimi giorni. La settimana che si apre sarà quella decisiva per uscire definitivamente dalla zona rossa e cominciare a guardare con sorriso e con speranza al futuro, ma dipende da ciascuno di noi, dalla condotta singola e collettiva di noi siciliani. Sì, è chiaro, io in questi giorni non guardo al termometro del consenso popolare, chi gestisce un'epidemia deve guardare soltanto al termometro che riconduce al numero dei morti, delle perdite noi non ci possiamo permettere il lusso di perdere 40 persone al giorno. Ecco perché faccio appello a tutti e se tutti riusciamo ad essere presenti alle proprie responsabilità questa maledetta epidemia presto sarà soltanto un ricordo.